Do quindi la parola a Andrea Wilczek. Grazie, è un onore essere qui per me. Ho ricevuto il mio invito per venire qui a fare il mio intervento quando ero in Asia. Mi è stato chiesto di dare un discorso, di solito faccio dei discorsi spontanei e è stato difficile per me scrivere, quindi leggerò. Ma vorrei ringraziarvi per avermi invitato. Mi sento veramente onorato per essere qui. Cari amici e compagni, Un anno fa stavo attraversando la valle del Beka in Libano e stavo monitorando la situazione nei campi dei rifugiati. L'inverno si sta avvicinando e le montagne nel confine tra Libia e Sirio erano ricoperte da una coltre di neve e faceva molto freddo, davvero freddo. A soli venti minuti, dopo aver lasciato Balbeck, vidi dei campi profughi estremamente proveri che sporgevano dal nulla sulla strada. Mi fermai e insieme al mio interprete entrai e iniziai a parlare con alcuni di loro. La situazione era disperata. Bambini affamati che non potevano andare a scuola perché l'UNHCR e il governo libanese erano quasi al collasso. Molte delle card per il cibo distribuite non funzionavano, non venivano dati permessi di lavoro e senza quei documenti il sistema sanitario locale non poteva essere usufruito. In breve era un vero disastro. Mi raccontavano che nella zona molti migranti siriani stavano morendo di fame. Questa era la situazione nella Valle del... ...bande e business nel narcotraffico e i rifugiati dovevano mantenere un basso profilo altrimenti, insomma... Prima di andarmene, due piccole ragazze, due sorelle, mi avvicinarono. Entrambe soffrivano di malnutrizione ed entrambe erano vestite con delle pezze, degli stracci ed entrambe sembravano povere. Ma una volta puntata la telecamera verso loro iniziarono a sorridere, a tirar fuori la lingua e a ridere. Il loro paese era in rovina, il loro futuro incerto. Ma si trattava soltanto di due piccole ragazze nel bel mezzo delle montagne, due ragazze emozionate per ogni piccolo dettaglio della loro vita. Che bella l'innocenza, così tanta speranza. Le persone sono delle persone, i bambini sono dei bambini in qualsiasi parte del mondo, anche durante la guerra. Purtroppo ne ho viste troppe di guerre, troppe barbarie perpetrate dalla Nato, dagli imperi, dagli Stati Uniti e dall'Europa. In seguito ho lavorato a COS, un'isola greca, e poi in Francia, a Calais. E ho continuato a pensare a quelle due ragazze. L'Occidente, o meglio la Nato, come preferite chiamarlo, nel modo più criminale ha destabilizzato e distrutto l'intero Medio Oriente, come ha fatto in quasi tutti i continenti del mondo. Ha rovinato culture uniche, saccheggiato tutto quello su cui potevano mettere le mani. Trasformato un popolo fiero in degli schiavi. La Libia e l'Iraq non esistono più. Ne sono testimone, dato che ho lavorato in tutto il Medio Oriente. Poi l'Occidente si è chiuso nel suo bunker dorato e ha digerito il suo bottino lentamente e disgustatamente. A quanti rifugiati l'Europa ha detto no, non possiamo ospitarvi un milione? Il minuscolo Libano ne ospita quasi due milioni di abitanti, due milioni almeno ci sta provando. E il Libano non ha distrutto né la Siria, né la Libia, né l'Afghanistan e neppure l'Iraq. Sapete come ci si sente? Come se osserviamo una donna che è stata stuprata, il cui marito è stato ucciso davanti ai suoi occhi e la cui casa è stata svaliggiata. Adesso questa donna, per poter salvare i propri figli, è costretta ad andare in Europa da quegli stessi stupratori e ladri che hanno distrutto la sua vita chiedendo un rifugio e cibo. E questi le sputano in faccia. Le dicono è troppo difficile per noi ospitare te e gli altri come te. Sei venuta per approfittarti di noi, per avere una vita migliore a nostre spese. Così è come sembra dall'esterno o almeno così è come la vedo io. E ho voglia di vomitare ma non c'è tempo, bisogna lavorare giorno e notte per fermare questa follia. L'Occidente, compresa l'Europa, è troppo indurito dai propri crimini, troppo cinico e troppo impunito. È cieco perché non paga per vedere. Non esiste in Europa una sinistra, almeno non quella a cui ci riferiamo a Cuba o in altri paesi rivoluzionari. Per noi la vera sinistra significa internazionalismo, solidarietà. La vera sinistra è globale, è ugualitaria, è antirazzista. La sinistra europea si preoccupa solo dei benefici per i propri cittadini. Non gli importa da dove provengano i fondi. Finché i francesi, i greci, gli agricoltori spagnoli o gli italiani ottengono i loro sussidi e vantaggi, a chi importa dell'agricoltura che va in rovina in Africa o in Asia, la cosa fondamentale è che gli agricoltori possano guidare le loro ultime BMW per la produzione o che non producano affatto. Ho visto attuati i concetti assolutamente pazzeschi in paesi come il Senegal e in altre ex colonie francesi. Fortemente sovvenzionata, la produzione di cibo francese ha invaso l'Africa occidentale. Sono stati aperti i supermercati, la produzione locale è crollata. I prezzi sono schizzati alle stelle, due o tre volte superiori a quelli di Parigi e in Senegal, dove i redditi sono forse solo il 10% di quelli in Francia, uno yogurt costa tre volte in più rispetto al monopri. Chi paga per quelle 35 ore lavorative? Chi paga per le cure mediche e l'istruzione gratuita nell'Unione Europea? Sicuramente non gli europei. La maggior parte dei fondi utilizzati provengono dalle colonie, dal saccheggio inimmaginabile del mondo da parte dell'Occidente. Colonialismo e imperialismo esistono ancora, ma sotto un'altra forma, anche se le sofferenze che devono pagare le persone sono le stesse. Il re belga, Leopoldo II, e la sua corte, in quello che oggi è il Congo, massacrarono 10 milioni di persone all'inizio del XX secolo, tra il 1995 e oggi. L'Occidente ha saccheggiato la Repubblica Democratica del Congo ancora una volta senza pietà, usando i suoi più stretti alleati in Africa, Rwanda, Uganda e Kenya. Anche in questo caso, tra i 7 e i 10 milioni di persone sono morte in soli 20 anni. Non si tratta di numeri gonfiati, provengono dalle Nazioni Unite e dalle sue relazioni, tra cui i cosiddetti mapping report. Tutto questo orrore, perché l'Occidente potesse accedere al coltan utilizzato nei nostri telefoni, all'uranio ed altri materiali strategici. Ci sono le prove nel mio documentario, che si chiama Rwanda Gambit. Tutte quelle vite e paesi rovinati, in modo che i cittadini europei potessero continuare ad avere i loro benefici, vacanze lunghe e servizi sociali. Quando ne ho parlato a un amico, un regista napoletano, mi ha detto non vogliamo essere come i cinesi, non vogliamo lavorare duramente come loro. E ho risposto allora vivi senza i tuoi privilegi, non permettere che le cooperative e i governi massacrino 10 milioni di persone, perché possano ricavarne dei profitti e i cittadini dei benefici irreali. Di recente, in Thailandia, ho assistito a un gruppo di ispanici che ridevano della loro vacanza nel sud-est asiatico, pagato con la loro indennità di disoccupazione. So che in molti paesi che dipendono dall'Occidente, perdere il lavoro è sinonimo di una condanna a morte. Mi dispiace dirlo, ma non soltanto gli Stati Uniti, ma anche l'Unione Europea disconoscono il loro ruolo nel mondo e ignorano i danni e gli orrori che stanno provocando in tutto il pianeta. Questa scoperta mi ha scioccato così tanto che ho passato quattro anni attraversando il mondo e raccogliendo prove e testimonianze che mostrano l'eredità coloniale, neocoloniale e imperialista dell'Occidente, così come l'attuale barbaria del neocolonialismo. Nel mio libro dal titolo Exposing Lies of the Empire ha 840 pagine. Il libro è stato avuto delle ottime critiche anche da Chomsky, ma per me non è la fine. I crimini, i genocidi, gli olocausti commessi all'Occidente sul popolo del nostro pianeta sono troppo grandi. Tutto è collegato a loro e il mondo li usa come i principali pilastri. Nel mio libro On Western Terrorism from Hiroshima to Drone Warfare scritto a quattro madi con Chomsky mi è stato chiesto se gli europei si rendono conto realmente di ciò che hanno fatto al mondo negli ultimi secoli. Ho risposto a no, no, non lo sanno. E ripeto, molti, la maggioranza non se ne rende conto. Non vogliono vedere, non vogliono ammettere che i loro teatri, ospedali, musei, parchi, strade sono state costruite su persone che sono state private di tutto. Dall'America Latina alle sue vene aperte dall'Asia all'Africa la schiavitù, le campagne di sterminio inimmaginabili, la lista degli orrori è interminabile. prima di iniziare la nostra discussione ho passato del tempo con degli statisti e la nostra conclusione è stata direttamente o indirettamente l'Occidente ha sterminato intorno a 40 e 50 milioni di persone dall'esplosione nucleare di Hiroshima fino al 2012. Il numero di persone uccise direttamente o indirettamente dagli imperi europei del mondo possono essere calcolati in centinaia di milioni. Uno dei miei amici statisti crede che il numero totale superi il miliardo. Quando mi chiedevano quando ho parlato in Cina in seguito a Mosca e da diversi ho dichiarato che sono completamente contro l'educazione e la gratuita e il sistema sanitario gratuita. Il costo è troppo alto e distrugge le persone intorno al mondo ma ho continuato che tollero appoggio la sanità gratuita e l'educazione gratuita e benefici sociali e come diciamo in Cuba se tutti ballano o non balla nessuno. Tollero e appoggio la sanità gratuita l'educazione gratuita e benefici sociali in quei paesi che non saccheggiano nel mondo come Cuba Cina Venezuele ed Ecuador. Non solo l'Occidente si rifiuta di affrontare la propria responsabilità dell'ormai quasi totale distruzione del mondo ma utilizza tutti i tipi di scuse e tattiche di propaganda per distrarre l'attenzione della gente diffondendo concetti economici nichilistici e delle bugie sta usando l'istruzione come un'arma offrendo borse di studi e figli dell'elite dei paesi che sta saccheggiando e controllando dopo essere stati indottrinati tornano a casa e continuano a pugnalare i propri paesi per conto degli Stati Uniti e dell'Europa così il circolo vizioso continua ho vissuto tanti momenti particolari e strani quando per esempio una famiglia dell'alta borghesia indonesiana di ritorno alla sua vacanza in Olanda inizia una lunga litania su quanto grandi fossero i teatri treni musei e gli spazi pubblici in Olanda rispetto a quelli in Indonesia ovviamente lo sono sono costruiti grazie al saccheggio perpetrato dagli olandesi per secoli sull'Indonesia come le cattedrali spagnoli sono piene di oro come dice Chomsky spesso non vedere tutto questo richiede veramente una grande disciplina la brutalità dell'impero occidentale non è quantificabile il cinismo è monumentale guardate i terroristi nei paesi islamici sono degli spaventapasseri che i governi medi occidentali continuano a sventolare davanti ai nostri occhi la cultura islamica è fortemente socialista e socialmente orientata dopo la seconda guerra mondiale laici governi socialisti rivoluzionari anti occidentali dominavano i più importanti paesi musulmani Egitto Iran e Indonesia in due anni in due decenni l'occidente li rovesciò implementando regimi fascisti e poi inventato i Mujahideen per terminare l'unione sovietica in Afghanistan è una volta che sentiva quando sentiva il bisogno di creare un nemico da sostituire al comunismo ha creato armi ha creato dei gruppi addestrati come al-Qaeda al-Nusra e l'Isis tutto questo tutto ciò ha supportato due importanti obiettivi giustificare i budget militari ed intelligence astronomici e mostrare la civiltà cristiana occidentale come culturalmente superiore combattendo quegli mostri arabi terroristi naturalmente la grande maggioranza delle persone in Europa e in Nord America sono così indottrinate intellettualmente compiacenti che trascurano quelle pirouette machiavelliche ci sono molte buone ragioni per attaccare il credo incoerente razzista e il protezionismo e così va avanti io sono qui in Italia e oggi io non voglio discutere non voglio parlare degli Stati Uniti di Israele o di altre colonie o stati clienti dell'Occidente possiamo farlo un'altra volta se mi invitate di nuovo ho parlato dell'Europa e ho parlato di queste due ragazze siriane che ho incontrato in Libano sono della della vostra sono è una vostra responsabilità anche dell'Italia soffrono di malnutrizione perché la vostra parte del mondo sta rovinando il loro paese perché il vostro paese è membro della Nato e la Nato si sta comportando come un picchiatore fascista con alcuni modelli comportamentali chiaramente mafiosi ma so che avete un cuore sono cresciuto con i vostri film Fellini De Sica Rossellini Antonioni e altri ammiro molto la vostra poesia e musica hanno avuto una grande influenza sul mio lavoro e sulla mia idea del mondo il mio lavoro come scrittore ma il vostro cuore a quanto pare ultimamente batte solo per il vostro popolo non è un cuore internazionale e non crede che tutte le persone siano uguali sono venuto qui per dire questo perché non molti osano farlo sono venuto qui perché mi preoccupo ho ancora fiducia nel vostro paese ma come un determinato realista socialista ho fiducia dell'Italia di quella che potrebbe e dovrebbe essere non di quella che è in questo momento grazie mille grazie a tutti 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 grazie a tutti